... Trovo che in generale Chaplin sia un mondo da scoprire. Per me personalmente e per noi tutti è stata una scoperta importantissima. Produceva i suoi film, li scriveva, li musicava, e questo trovo che sia veramente una dote forse più unica che rara. Musica Music was around Chaplin's existence from the very beginning. e poi diventò parte dei 8 Lancashire Lads come un trattamento di caldo e poi è stato un'attore con la company Fred Carno fino a l'America Siamo trovando nuove cose nuove parti della sua vita che abbiamo cercato di inserire musicamente e non musicamente e ovviamente tutti i film e gli archivi sono completamente ristrati in Bologna quindi la connessione con l'Italia è molto forte Lavorare con Timothy Brock è un onore perché è veramente un musicista un direttore d'orchestra straordinario Il film film è parte di un più grande spazio o array di tratti di motion picture mentre il film film è tutto è dialogo, effetti all'accompanimento che produrano la esperienza motore con la musica e, ovviamente, abbiamo la corrispondenza visuale con ciò che sta succedendo. Ma insieme è molto più grande che il sumo delle parti. Tra l'Orchestra Italiano del Cinema è una grande esperienza, perché sono ovviamente speciali in musica di film ma sono anche così intensi per ottenere la musica che Chaplin ha scritto proprio bene. Scoprendo Chaplin, entrando un po' più in profondità si scopre un tesoro, a mio avviso, immenso che lascia un messaggio all'umanità molto profondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.